A Porto Gruaro arriva la chirurgia robotica con il robot Da Vinci, che consentirà operazioni più precise e sicure. Direttore Bramezza, può darci qualche informazione? Allora, per gli interventi chirurgici il robot Da Vinci è il massimo della tecnologia che ci sia in questo momento al mondo. Il massimo di questa tecnologia da oggi c'è qui all'ospedale di Porto Gruaro. È una grandissima soddisfazione per tutta l'azienda, in particolar modo per i nostri chirurghi, perché potranno dare ai nostri cittadini il massimo per quello che riguarda la sicurezza e la qualità della chirurgia. Porto Gruaro già negli ultimi anni era diventato un vero e proprio polo di riferimento, un polo chirurgico di riferimento non solo del territorio dello squadro veneto orientale, ma di tutta quest'area che va anche nel Pordenonese, che va anche nell'Alto Trevigiano. Con questa tecnologia potremo dare risposte ancora migliori, con delle equip chirurgiche che si sono create in questi anni, con bravi primari, bravi collaboratori, belle equip, giovani, che hanno voglia di mettersi sempre alla prova e che danno grande soddisfazione veramente ai nostri cittadini che ci ringraziano per il loro operato. Con questa tecnologia contiamo di superare, di fare altri 200 interventi chirurgici all'anno, siamo già numeri molto elevati, ma intendiamo sfruttarlo proprio al meglio anche per l'alto costo che questa tecnologia ha comportato di investimento per l'azienda di quasi 10 milioni di euro in 4 anni. Il bello di questa tecnologia è che, a differenza di tutte le altre, il chirurgo non opera sopra il paziente, cioè sopra il letto operatorio, ma opera a distanza. In questo momento potrebbe essere anche il paziente qui a Portoguaro e il chirurgo a Houston, in una città dell'America, perché appunto è a distanza. Questo avviene tramite un sistema per cui il chirurgo lavora su di una console guardando il paziente in 3D, quindi in massima dimensione e ci sono i bracci del robot che si muovono invece su 360 gradi.